Ad Andria, secondo incontro del ciclo di eventi denominato Bellezza e Colori, organizzato dall'Associazione L'Altrove e dall'Università degli Studi di Bari. Al centro del secondo appuntamento il tema I colori nella liturgia. Vediamo. Colore, bellezza e comunicazione. Tre incontri, questo è il secondo. Perché avete organizzato questa serie di incontri? Perché crediamo innanzitutto nella bellezza. Stasera è il secondo di un nuovo ciclo. Abbiamo avuto i primi tre, che sono partiti da ottobre a dicembre 2018. Abbiamo voluto, nel tema del grande della bellezza, scegliere appunto i colori. Siamo circondati da colori, le città sono circondati da colori, la natura ci dà tanto coloro. A tutti i livelli ci sono i colori, però noi non li riconosciamo, non vogliamo vederli. Invece dovremmo avere grandi occhi per ammirare i colori, ossigenarci di cielo, per esempio. E proprio perché ci ossigeniamo di cielo, io penso, riusciremmo dentro di noi a trovare la bussola, la vera bussola che ci permetta di andare nella direzione giusta. Alla luce di tante cose che succedono, anche molto tristi. Questo è l'end point. Vogliamo lasciare ai giovani, il nostro è un tentativo evidente, vorremmo lasciare ai giovani un mondo bello, perché il mondo è bello, se l'uomo è bello. Facciamo in modo che, io lo ripeto spesso e non mi stanco forse di ripeterlo, facciamo cordata, tutti i ben pensanti, i grandi, devono far cordata per far sì che i nostri bambini vivano questa gioia. Ma per trovare la bellezza ci vuole anche un occhio che sia allenato? Io penso proprio di sì. Dobbiamo allenare veramente i giovani. Io parlo così e ho voluto questo tema fortemente, perché nella mia mente, nei miei occhi, io ho tutta l'immagine dell'infanzia, della mia infanzia. Un'infanzia cresciuta è passata all'insegna proprio di questo, del bello. Ci sono stati anche momenti, non dico di no, però quelle corse nell'AIA, quegli abbracci dei miei genitori, quanto ha fatto in me che questo rimanesse. Allora io l'ho scritto anche nella presentazione di un libro che adesso offrirò ai relatori. Ho voluto che tutta questa bellezza che abbiamo, tutti l'abbiamo dentro, dobbiamo sprigionarla, dobbiamo donarla, dobbiamo rompere gli argini di questo fiume, ma non per straripare o soverchiare gli altri. No, dobbiamo far sì che questi nostri input in positivo possiamo darli anche ai nostri ragazzi.